La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ieri a un decreto di sequestro di beni e di confisca e messo esensi della normativa antimafia dal Tribunale di Catanzaro, la sezione misure di prevenzione sugli approfondimenti economico-patrimoniali disposti dalla Procura di Catanzaro nei confronti di un imprenditore che opera nel settore immobiliare ed attualmente sottoposto alla misura cautelare agli arresti domiciliari. L'uomo già condannato per associazione tipo mafioso nel gennaio 2021 era stato sottoposto ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nell'ambito della nota operazione profilo basso della DDA di Catanzaro. All'esito del relativo processo di primo grado nel luglio del 2023 veniva condannato alla pena di 30 anni di reclusione per il delitto di associazione tipo mafioso. Dagli atti dell'inchiesta era emerso il suo ruolo quale imprenditore di riferimento di alcune tra le organizzazioni indaghetistiche più pericolose insistenti nelle province di Catanzaro e Crotone. In particolare avrebbe coadiuvato la criminalità organizzata nel settore dell'usura investito denaro frutto di attività illecita nel settore immobiliare utilizzando le proprie compagini aziendali per agevolare l'infiltrazione nel tessuto economico delle cosche. Gli ulteriori approfondimenti investigativi hanno consentito rilevare ulteriori beni intestati o comunque riconducibili all'imprenditore quale frutto del reimpiego di attività illecite e in ogni caso del valore sproporzionato rispetto ai redditi legittimamente dichiarati. Dunque il provvedimento ablativo in questione ad oggetto un'attività d'impresa, un'edita individuale, un bene immobile e un fabbricato e dieci beni mobili tra cui un impianto fotovoltaico otto orologi Rolex e un lingotto d'oro denaro contante in valuta europea ed estera e due rapporti finanziari per un valore complessivo stimato di 500.000 euro.